Sindaco, scusi, l'ormai famoso Toni Colombo sostiene che lei doveva celebrare il suo matrimonio, che ne aveva parlato con il suo fratello Claudio e che lui si è esibito... No, stringo i tempi! Non preoccupare, puoi farlo anche più con calma, non preoccupare! L'interrogatorio mi faceva lei, sindaco, non io, e che praticamente lui si è esibito anche in manifestazioni elettorali per lei. Lo so che purtroppo, devo dire, invece di occuparsi in modo preciso e analitico di tante cose importanti che stiamo facendo, che noi tra il bilancio, salvare le società partecipate, dobbiamo intervenire praticamente quasi a difenderci. Quando invece c'è il caro di Costanzo, vorrei farvi comprendere... No, ci occupiamo di tutto! Sì, sì, farvi comprendere... Se mi fai rispondere, per favore, se mi fai rispondere che le persone forse che subiscono un danno in questa vicenda sono le persone che ogni giorno lavorano con fatica per questa città. E io piuttosto mi interrogherei come mai questa ricerca spasmodica di trovare nella città, nel suo popolo, e in chi l'amministra il colpevole. Salvo che non ci sia stata una legge di questi giorni, sposarsi non è vietato a Napoli, no? No, posso fare anche io questa domanda? No, no, aspetta una, io devo rispondere come ritengo. La domanda viene fatta come ritieni, la risposta viene fatta come ritieni. Se vuoi farla tu la risposta, allora la faresti meglio di me, però io sono quello che risponde. Sposarsi è un diritto per tutti. Quindi noi abbiamo fatto sposare Toni Colombo come si sposano decine di migliaia di persone in nostra città. Si sposano borghesi, principi, aristocratici, neomelodici, cantanti, pregiudicati di penale, si sposano di tutti. Io non ho sposato Toni Colombo e non ho mai pensato di sposare Toni Colombo. Le ragioni di opportunità me le tengo per me o per chi ha bisogno di volerle sapere, perché sono ragioni evidentemente ben chiare. Io sposo decine e decine di persone, ho ritenuto di non sposare Toni Colombo. L'amministrazione comunale che con tutto questo fango che si sta cercando di buttare, non parlo del sindaco perché io non ho nulla di cui dover rispondere, lo faccio solo per cortesia nei confronti di una domanda di un giornalista corretto, quindi rispondo altrimenti veramente non avrei nulla da rispondere perché il sindaco non vedo che deve dire se ha sposato o non ha sposato Toni Colombo, non ha sposato Toni Colombo, basta andare là. L'amministrazione comunale, lo so che questo dà fastidio a tanti, è l'unica forse che è intervenuto in questa vicenda, perché se c'era qualche motivo che sconosco, perché non si dovesse consentire determinate cose, mai nessuno ci ha comunicato nulla. Quando abbiamo appreso durante la mattinata, che erano in corso delle cose non autorizzate, l'amministrazione comunale, sto riportando quello che mi hanno riferito, perché non è un'attività che faccio io personalmente, è intervenuta con il giusto rigore, devo dire addirittura forse superiore ad altre circostanze, perché davvero c'è stata una tempestività encomiabile. Quando abbiamo appreso la mattina che c'era stato non un flash mob, ma ben altro, ci siamo informati, abbiamo appreso che tutto quello non era autorizzato, a questo punto una domanda, se posso consentirmi, la faccio anche io, ma non a lei, la faccio a tutti quelli che mi ascoltano, voglio sapere anche io come mai nessuno ha visto niente, sinceramente. Se io mi fossi trovato a passare casualmente da quelle parti, me ne sarei accorto, è un po' curioso che nel giro di pochi giorni in una zona la più presidiata di Napoli, la zona più presidiata di Napoli, in cui c'è il palazzo del governo, vorrei ricordarlo, si è passato da una mitragliatrice e da colpi di pistola, senza che nessuno ha potuto fermare quelli, a montare un palco, non so da che ora, non aspetta a me stabilirlo, perché purtroppo le domande le facevo in un'altra vita, adesso non le posso più fare, però da sindaco la faccio. Cioè sono io interessato perché siamo noi parte danneggiata di tutto questo. Poi abbiamo avuto anche un'altra grande sensibilità, che come abbiamo appreso, almeno come io ho appreso il pomeriggio quando mi è stato comunicato dall'assessore Clemente che c'era questa coincidenza di cose che sinceramente ho ritenuto assolutamente non conciliabili, abbiamo effettuato un evento a cui io personalmente tenevo tantissimo e che anzi ho anche partecipato, cosa che non avrei fatto al maschio angioino, in sala giunta e quindi mi spiace perché ho visto anche dei titoli veramente inaccettabili, non c'è stato nessuno sfratto, nessuna migrazione, c'è stata semplicemente l'idea di dare la massima valorizzazione a un evento su cui noi ci mettiamo la faccia. Sinceramente posso dire una cosa, la trovo davvero sconcertante, e dopo quattro giorni si continui a chiedere a me queste domande, forse se ne andate a fare anche a qualche altro ufficio, forse mi fa piacere, però non leggo risposte. Sindaco, però le volevo chiedere solo una cosa, dopo che si era capito che non era stato un flash bomb, dopo che si era capito che qui si avevano fatto anche questo corteo al corso secondigliano e tutto, non era possibile bloccare il matrimonio nostro angioino? Parlatene con chi è di dovere, grazie. Grazie, ma lei... Sapete che è di dovere, ve lo devo dire? No, penso che lo sapete. Ha invitato anche la prefettura? No, sapete il ruolo del sindaco, sapete il ruolo del prefetto, del questore e delle forze di polizia, soprattutto perché le violazioni amministrative per strada non le accerta il sindaco. L'unica cosa che io mi sono appurato di verificare, se i nostri uffici hanno autorizzato o meno, che non è il sindaco, ripeto, è una cortesia che sto facendo di rispondere, altrimenti voi andate dai dirigenti preposti, dai comandanti preposti, dagli uffici... No, non è che voi... Perché altrimenti si confia, io capisco che c'è un obiettivo di colpire il sindaco e quindi lo comprendo. Però io faccio una risposta precisa. Diciamo che da questa storia... Io ovviamente da sindaco sono parte danneggiata, dal fango che mi state buttando addosso. No, no, è la città che è danneggiata, volevo dire. Anche il sindaco, anche il sindaco... La città, il sindaco e il popolo. È danneggiato, è del favore che è stato fatto a Antonio Colombo, da chi ci ha dato tutta questa pubblicità. Questa è la cosa che più mi fa sorridere, questa pubblicità mediatica, credo che darà, sicuramente farà in modo il Colombo, farà una medaglia a tutti quelli che lo stanno facendo arrivare a 30 milioni di visualizzazioni. Stavo dicendo, io sto rispondendo per quello che ho acquisito. Quindi io la mia preoccupazione che ho avuto, ma non è che il comune di Napoli ha autorizzato una cosa di questo, o chiaramente in quel caso mi sarebbero usciti gli occhi da fuori. Mi sono accertato che come mi hanno rigenificato, gli uffici preposti, spero mi abbiano ovviamente detto le cose come stanno, nulla di tutto quello era stato autorizzato. Quindi tutto questo, alla fine della fiera, noi dobbiamo rispondere di una cosa di cui non solo non abbiamo nessuna responsabilità, siamo danneggiati, stiamo rispondendo sul nulla e a questo punto però, siccome si è creata una confusione e una strumentalizzazione e un bombardamento mediatico solo perché Napoli, solo perché De Magistris e solo perché è la città di Napoli, il popolo napoletano, a questo punto lo voglio sapere io, come mai nessuno si è accorto di quello che si stava montando di fronte casa del prefetto di Napoli. Perché altrimenti a questo punto ognuno deve fare delle domande, le faccio pure io le domande, le faccio pubblicamente chiaramente, visto che mi avete fatto una domanda, metto a fare pure io le domande.